Ciao a tutti, finalmente oggi apriremo le danze alle ricette per Pasqua, sono anche leggermente in ritardo. Oggi vi voglio proporre una ricetta tradizionale sarda caratterizzata da una sfoglia sottilissima che racchiude un ripieno, un gustoso, goloso ripieno di saba, quindi il mosto dell'uva cotto, mandorle e aromi. Sia il nome che il ripieno cambiano in base alla zona in cui le troviamo, quindi le troveremo col nome di Tilicas oppure T-I-C-A-S, quindi con la R, oppure caschettas. Questo video sarà in collaborazione con una ragazza davvero carinissima che fa delle ricette super super belle e particolari, si chiama Aidi e il suo canale è Arte Manualidades, comunque vi lascerò il link qui in alto a sinistra del video, non ricordo se a sinistra o a destra, ogni volta non mi ricordo mai, comunque nelle schede informative e anche giù nell'info box potete trovare ovviamente tutta la descrizione di questo dolce sardo e poi tutti gli ingredienti è il link del suo canale. Ok, non perdiamo altro tempo, adesso andrò ad elencarvi gli ingredienti. Allora, per la sfoglia ci occorreranno 250 g di farina, 50 g di strutto che avremmo già tenuto a temperatura ambiente in modo tale che si sia ammorbidito, poi 100 ml di acqua anche essa tiepida, quindi diciamo a temperatura ambiente e un pizzico di sale, questo è per la sfoglia, mentre per il ripieno ci occorreranno 200 ml di sapa, quindi il mosto dell'uva cotto e più un altro po' per spennellare, poi alla fine le nostre tilicas, 2 cucchiai di semola, quella fine, poi 70 g di mandorle, quelle già pelate che poi noi andremo a tritare, un cucchiaino della sapolita, la famosa droga sapolita, ossia il mix di spezie che avete visto già in tanti miei video, poi la buccia, la scorza grattugiata di mezza arancia, eccola qui. E in ultimo ci occorrerà per decorazione finale, ovviamente sulle nostre tilicas, la montelliglia o come la chiamiamo noi satragera, quindi le palline colorate. Andiamo subito a prepararle. Ho dimenticato di dirvi due cose, innanzitutto l'arancia preferibilmente deve essere biologica, ovviamente per poter utilizzare la scorza, e poi questo dolce tradizionalmente in Sardegna viene preparato per la festa di ogni santi, però qui nella mia famiglia è tradizione gustarle anche a Pasqua, quindi proprio per la loro forma carinissima che ricorda un ferro di cavallo, quindi si possono fare a U, oppure anche un serpentello, quindi a S. Comunque potete darle le forme che più vi piacciono. Ora all'interno di un mixer, io uso il bimbi ovviamente per comodità, andremo a versare tutte quante le mandorle, e poi andremo a prelevare metà di questa scorza, quindi andremo a, col preleva scorza di agrumi, andremo a ricavare metà della buccia di questa arancia e l'andrò a versare all'interno del mixer, così in questo modo poi andrò a tritare tutto quanto assieme. Eccola qui. Adesso non mettiamo il bimbi alla massima potenza, quindi velocità turbo, ma faremo un trito, diciamo, non le ridurremo a farina in quel senso, faremo un trito un po' grossolano, quindi 10 secondi, velocità 7. ed eccolo qui, guardate che bello. Ora mettiamo la sapa in un pentolino antiaderente con la fiamma bassa e inizieremo a scaldarla e la faremo sobollire. Poi, dopodiché, butteremo dentro i due cucchiai di semola sottile a pioggia e andremo a mescolare di continuo, sempre, mi raccomando, tenendo il fuoco bassissimo. Al nostro trito di mandorle e scorza d'arancia aggiungeremo anche il cucchiaino della droga saporita. Eccola qui. E mescoliamo per bene. Versiamo il semolino a pioggia. E mescoliamo sempre senza fermarci. Andremo ad aggiungere anche il trito di mandorle, arancia e la droga saporita. E continuiamo a mescolare. Continuiamo a far cuocere così per altri 5 minuti, sempre a fiamma bassa e sempre mescolando. Finché il composto, come vedete, si sta già staccando dalle pareti. Quindi finché il composto non si staccherà totalmente dalle pareti. Ok, vi mostro come il composto si è staccato e si sta staccando totalmente dal terreno. Come vedete, è diventato molto malleabile. A questo punto possiamo spegnere il fuoco e lo mettiamo ad una parte, lo trasferiamo in un piatto, in ceramica o in un altro recipiente come preferite e lo lasciamo sfreddare così a temperatura ambiente. Ora all'interno di una ciotola andiamo a versare la farina, aggiungiamo un pizzico di sale, lo strutto ammorbidito e iniziamo ad impastare, aggiungendo man mano l'acqua, così a pioggia, l'acqua tiepida, mi raccomando. Si deve creare un bel panetto. Quando il panetto avrà raggiunto questa consistenza, quindi deve essere bello morbido, allora ci possiamo trasferire, ci potremo trasferire sopra la spianatoia e continuare a lavorarlo per qualche minuto. Ok, adesso l'avvolgiamo con la pellicola trasparente e la faremo riposare per circa 30 minuti. Nel frattempo il nostro impasto sicuramente si fredderà. Finalmente è arrivato il tanto atteso momento di sfogliare la pasta e creare le nostre formine per le nostre tiritas. Allora, quindi infariniamo leggermente tutto il nostro piano di lavoro perché dovremo preparare le striscette. Quindi prima ci prepariamo tutte le strisce di pasta che poi andremo a tagliare con la rotellina, vedete questa dentellata e poi con il ripieno ormai freddo andremo a creare dei salamotti da mettere poi al centro di ogni striscia e poi andremo a sfogliare la pasta. Io inizio prima da un livello grosso, chiamiamolo così, perché inizierò prima con lo spessore 2 e poi lo porterò a uno spessore 4 o 5. Ora vediamo come esce la pasta. Non deve essere né troppo sottile, ma neanche troppo grossa. Quindi una via di mezzo. Ok, ve la mostro così, guardate. Questo è a livello 4 della mia macchina che serve ovviamente per sfogliare. Quindi la portiamo a 5 adesso e sfogliamo a 5. Quindi torniamoci di metro e andremo a creare tutte le nostre striscioline per essere ovviamente più precisi. Quindi sappiamo che i nostri cestinetti dovranno avere la lunghezza di 12 cm quindi creiamo le divisioni a 12 cm per volta e poi dovranno essere alte 4 cm l'una. Quindi all'altezza di 4 cm andremo a creare tutte le nostre striscioline. Adesso dopo esserci preparati un paio di striscioline prendiamo, preleviamo una parte di impasto vedete che non si appiccica alle mani comunque se dovesse capitare ce le infariniamo leggermente e iniziamo ad arrotolare su se stesso un salsicciottino, chiamiamolo così di impasto cerchiamo di farli tutti uguali e li andremo a tagliare a circa 10 cm di lunghezza in modo tale che ci stiano bene su ogni strisciolina e quindi che non sbordino e si possano chiudere. Ok, adesso rialziamo i bordi spostiamo il piatto così si vede bene rialziamo i bordi della pasta sia da una parte che dall'altra chiudiamo ai lati e gli diamo la forma che preferiamo quella che più ci piace guardate che carina questa io l'ho voluta fare a forma di S quindi vedete qua all'estremità devono essere chiusi chiuse per bene le due estremità della pasta e il ripieno si deve appena intravedere che esce fuori dalla pasta ed eccole qui le nostre tilicas pronte per essere infornate dopo averle disposte sulla lecarda del forno le inforneremo in forno già caldo a 160 gradi e le faremo cuocere per circa 10-15 minuti perché in realtà il ripieno è già cotto quindi praticamente deve cuocere solo la pasta per cui come noi vediamo che diventa di un bel colore ambrato allora le sforneremo la pasta che non abbiamo utilizzato quindi quella che è avanzata dai ritagli della pasta la possiamo tranquillamente avvolgere con la pellicola trasparente proprio così a forma di pallina e la possiamo congelare e quindi poi utilizzare all'occorrenza quando ci occorrerà ed ecco qui le nostre tilicas appena sfornate adesso con un pennellino la punta proprio è poco poco sapa andremo a spennellare facendo attenzione a non sporcare la pasta spennelliamo il ripieno in modo tale che poi si attacchino per bene le palline colorate e quindi con molta pazienza faremo lo stesso procedimento per tutte quante ecco qui le nostre meravigliose ed eleganti tilicas pronte guardate quanto sono belle immaginatevi che bella figura che fanno sulla tavola di Pasqua e poi realizzarle non è neanche così tanto difficile oltretutto avete notato che i tempi di cottura sono veramente brevi quindi mi raccomando andate a vedere anche la videoricetta di Heidi quindi arte manuali d'Adès io adesso vi mando un grandissimo abbraccio spero tanto che questa ricettina vi sia piaciuta non perdetevi le prossime ricette che saranno tutte in tema pasquale e noi ci rivediamo al prossimo video ciao grazie